Davvero felice la bellissima Beatrice Bio di questo incontro alla Casa Bianca con il presidente attuale degli Stati Uniti d'America. Sto parlando del presidente Barack Obama. Arrivata a Washington la bella Beatrice in occasione di questa cena di Stato a Casa Bianca in una delegazione italiana rappresentata dal primo ministro, dal presidente del Consiglio Italiano Renzi, da sua moglie di nome Agnese, il premio Oscar Roberto Benigni con la moglie Nicoletta Braschi, il presidente dell'Unità Nazionale Raffaele Cantone e ovviamente anche lei, la campionessa paralimpica Bebe Bio, così soprannominata Bebe ma in realtà si chiama Beatrice Bio, colpita all'età di 11 anni da una meningite fulminante. La video ha pubblicato, ripeto, riuscita a farsi una foto, un selfie con Obama che poi ovviamente è stato pubblicato su Facebook insieme ai propri padroni di casa. Dunque una felicità incontenibile per questa favolosa campionessa paralimpica che ha dimostrato in modo completo, in modo determinante e determinato di essere all'altezza della situazione. Si vede alla sinistra dello schermo un divertito Barack Obama che sorride a 38 denti, felicissimo, sorriso, smagliano, denti perfetti, espressione di divertimento e alla destra dello schermo lei Bebe Bio, raggiante, contenta, felice. Grazie, iscrivetevi, commentate e... Grazie.